Ciao a tutti ben tornati sul mio canale. Scusate per la luce e i miei animi, insomma oggi registro come un portatile perché il mio carissimo telefono che si deve scaricarsi è un mezzo sbagliato quindi decido come portatile. Comunque oggi faccio il video dei preferiti di aprile maggio con il fatto che è arrivata ferma a marzo di aprile maggio insieme. Cominciamo. Allora prima cosa questa fantastica clove che ovviamente vedete la cover personalizzata che me l'hanno fatta le mie amiche che sono la Giulia che anche loro anche loro hanno un canale, scusate, YouTube, Giulia, Gianni Codin e Gora Silvio, dove ovviamente vedete che abbiamo fatto collaborazioni, video tag, eccetera, insieme, quindi le potete trovare lì. Comunque nel caso vi metto il loro link di canale sotto nei link di Twitter. Insomma una cover bellissima di te, non so, vi ringrazio perché l'hanno bellissimo e l'hanno più e se lo cadessero colta anche per farla vedere. Perchè altrimenti sono in carica che lo fai di capire. Poi, non so se riuscite a vedere ma sono indirizzi, poi il concetto di Lorento Paola. Io non ho da mia amica e li abbiamo presi appunto un settimana fa perché viene a Paola il modello, se non sbaglio, al James, finito in merito, casa nostra, ci vediamo lì c'è che andai. Io non vedo l'ora perché ne avevo già visto, non ho già visto, ho fatto più una copia e avevo proprio fatto lì, però questo portiere è tutta altra cosa, sicuramente è meglio. Poi, per quanto riguarda i libri, non ne ho quanti, ho più di 10 libri, però è perfetto come il secondo libro. Allora, il quarto, questo, che è Innamorarsi e non continuere. E' bellissimo, io sono arrivata praticamente all'inizio, perché qualcosa che ho dovuto finire, c'è per ritartare gli altri libri, in cui sono pronti con delle estremetive. Bisogna la mia sessione, quindi leggo un po' ultimamente, però questo concetto a leggere, ed è stracarino, cioè praticamente tutte le ragazze che non si sogna, diciamo, la vita, la vita baffina. Questo si trasmisce dove c'è la diversa città, l'Uniterra, che era un figlio, dove aveva tirato un figlio, quindi diretto. Quindi lei si sogna, insomma, incontrare lui, che comunque troverà dal livello degli altri film, e mi trovo che se la senti proprio a lui, è proprio così. E' carina, cioè è proprio romanzosa, niente di segnativo. Un altro libro che ho provato, invece, è la versione tipo precedente del libro di C'è un figlio che ha incertato l'Alaska. Sì, è quella lì, che è indagascabile. Dobbiamo ancora cominciare con un'altra domanda per ora, perché gli sto leggendo tutti i suoi libri, e questo sicuramente è uno dei migliori. Poi, questo finito per la notte, dovremo fare un stile tra lì. E anche un mille figlio del libro. Poi, questo invece è stato un regalo di una Natale, se lo scondo. Sì. Sì, perché ve lo conosco solo adesso, perché quello che faccio mi ha più complicato. Insomma, regalo di Natale, e me l'ha regalata la mia amica, il mio amico Giugno, appunto. E devo ancora leggere, però già dal titolo, il ragazzo che mi trova dalla finestra sul filone, dice tutto il titolo. E insomma, quindi lo devo ancora letto, però sarà uno dei prossimi, quindi terò un impegno, prometto, e leggerò. Bene, ora passiamo alla parte del cd. Gli ho comprati tre. Questo ve li mostro. Allora, il primo è il cd delle colore sonore, quindi questo è il 27, perché io ti amo alla follia tutta quella saga, soprattutto l'ultimo, anche se ripeto che la fine è stata devastante. Però amo quel film e come vediamo tutti. Queste versioni sono bellissime, in giù sono in fissa con See We Again, che canta Harley Pizz e Wiz Khalifa. E un'altra che c'è sempre Wiz Khalifa, che canta con Idy Asalia, che è Go Hard or Go Co. È bellissima. Io li amo questi due cantoni, che io ne ho provo a comprare. E l'altra volta che mi aspettavano gli al meglio ordo, quindi mi ne ho portato. Poi un altro, Never Again, mi intriga. Vabbè, questo qua, cioè, si sa, se non lo guardano, invece, mi diventa fan, non so. In questo caso, The Cover Sebriga. A me piace se briga, ad esempio, che ho preso su cd. Questo che io, tipo, lei l'amo alla follia, se non lo vedete, mi teniamo a racconto di come canta e delle sue canzoni, che è Megan Bale, che è il primo cd che è uscito. Perché ho anche letto, però, cioè, un po' di cinque canzoni. Questo invece è quello, appunto, che è uscito ultimo. Lo vedete? Ed è bellissimo, lo so già a memoria. Perché lo ascolto sopra. Ora passiamo ai DVD, che sono un bel pop, e che vi consiglio. un bel pop. Allora, prima, mi dico di finalmente di scrivermi ancora. Come sapete, ho il libro che avevo fatto già un po' precedente, dove facevo l'accensione del libro, e finalmente è uscito il libro lì, in qualche giorno l'ho fatto, devo assolutamente comprarlo, infatti, l'ho fatto. Eccolo qui. E io l'ho fatto lì, e invece c'è sempre a finire, l'uomo, a prescindere. Ma proprio bello, finire, me la prendo, tutto quanto. Poi, queste cose, vabbè, è un po' una sfidata con bellezza, però, di bacazzini vicini, con Zac Efron, Soterole, e Dave Franco, che è un po' di James Franco, perché lo sapessi? Tanto ho trovato, sono famoso di più o due, che è bellissimo, l'ho visto al cinema, quindi i miei amici, ma non lo guarderei sempre, perché è un bellissimo film, quindi fa morire da vedere. Poi, questo, che è un'altra commedia, con un film che sono, e che c'è anche di Nero Brian, perché qua non si vede, ma c'è, che è appunto gli stagisti, che avevo già visto in inglese, quando ho visto gli stagisti, mentre ho il proprio bambino, perché è un bellissimo film. Questo, che personalmente, io amo alla famiglia, che è un classico, però, dell'Ipsom, le pagine della famiglia di Nicholas Parks, come Ryan Gosling e Rachel McAdams. L'ho amato, l'ho avuto in questo film, anche se ogni volta non prende 70 papi, per guardarlo, cosa guardo, però? Dettagli. Poi, è un altro film, che è un altro film, che è un film, tipo di film, di tracci, tipo colpa delle stelle, eccetera, che è l'estate da noi, che a pochissima gente l'avevo capito mi è piaciuto, io sono una delle cose, a me invece è difficile un casino, perché io avevo voluto anche il libro, devo comprarmi un senso, e a me è piaciuta massimo, non so davvero perché la gente non l'ha detto molto bello, però c'è un sacco, perché ho approfittato e invece no, lo prendo subito. Poi, un altro film, che c'è tutto un po' più azione, movimentato, azione movimentata, eccetera, e, off the heart, certo, insomma, quello che è, o non mi vengono le parole stamattina, comunque con Wee Sweet e Jane and Sweet, sì è un po' fantasy, un super azione, thriller, un po' un gusto, e per il carino, questa è che è un'altra commedia, con Zacchetto, Mike Teller e Michael Jordan, il mio potere del genere, Michael Jordan, va bene insomma con lui, che è una commedia che ti costa visto al cinema, però mi è piaciuta un sacco, quindi, per esempio, mi piace di questo. Poi, mi sono fatta un po' di spese su Amazon, infatti ho preso tutti i cofanetti, tutti i rocci, esatto, anzi 4 perché non ce la voglia, e della serie che ho visto sul terreno, perché come sapete, la amo alla follia, un po' che sa, non ho fatto, visto il fatto che ho fatto la prima in Italia e non esistono i compagni, i figli e i figli non possono dare il mio inglese, quindi adesso voglio mostrare un po', ah, ne ho comprato anche di un tedesco, perché non ce l'avevo in Italia, non come. Questa l'ho appunto a stagione, quindi personalmente a me non è piaciuta tantissimo, però, cioè, siccome ci sono sempre loro, cioè, comunque, io voglio fare la collezione di tutte, quindi, l'avrei più di comunque. Poi, la sesta, che è buona, che però è versione UK, inoltre, 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 ci sono tutti gli stupi staccati, però a me piace questa, perché è semi senza anni, ma è bella proprio come serie. E la settima, che è ambiciativa, che parla dei mediatari, è questa che ho venuto premio in tedesco, ma tanto c'è opzione nella lingua inglese, quindi non c'è nessun problema. E l'ottava, invece, che è la versione americana, che è un po' più migrato dagli Stati Uniti, sempre appunto un supermercato. E un'altra cosa, come compagni in questa stagione, è una paese al G2, che sono le prime in questa stagione del promiscale. Come potete vedere, ecco le tavole tutte insieme, e erano tipo un mega sconto da una cosa come 40 euro, che stavano felici all'olura, e quindi ho detto, meglio che approfitto. Infatti devo assolutamente continuare, perché l'ho cominciata da poco, finissima un po' indietro, dovevo vedere la testa, quindi via e via. Me ne manca ancora un po'. E ultima cosa, ma non è importante, l'ho comprata un più fresco pesco di oggi, Stuck in Rome. Nell'altro film, tipo, sì, tutto ciò che si tratta di tutto di Colpa delle Stelle, e tutta quella saga lì, insomma, a me piacciono quelli molto. Infatti, invece, l'ho appunto molto bello di Nicolle, e Sino dell'Emmar, nato molto più, che è proprio ragazzo di Colpa delle Stelle, e fa la città di Cassa, quindi siccome io torno a vedere al cinema, e anche Giuliana Liorata, che è un avviso bravo, insomma, non nemmeno di me, quindi, cioè, è anche bravo. E insomma, basta, purtroppo, il video finito, sono riuscita a mettere, diciamo, tutte le cose principali, perché ne avevo anche altre, però sono state qua a fare video di 50 minuti, non è il caso. Quindi, spero che il video vi sia piaciuto, se avete qualcosa, o che dicevano qualcosa, qualsiasi cosa che vi passi per la testa, commentate questo fuoco. E se vi è piaciuto, lasciate un bel like. Se non vi è piaciuto, mi raccomando di guardatelo, perché non è nel senso guardare un video che mi piace, se lo permetterei. Quindi, vi prego, grazie. E niente, ovviamente, ci vediamo la prossima. Ciao!